Non dobbiamo arrenderci. Al forum Ambrosetti di Cernobbio, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ribadito l'importanza di garantire sostegno militare a Kiev nel conflitto contro la Russia, spiegando che per l'Italia si tratta di una questione di interesse nazionale, ma anche di una forma di protesta contro una nazione che ha deciso di sfruttare la propria superiorità militare per invaderne un'altra più debole. Penso che sull'Ucraina non dobbiamo mollare. E lo dico con estrema chiarezza e lo dico anche sapendo che chiaramente c'è un'opinione pubblica che è spaventata, preoccupata legittimamente e giustamente dalla guerra. Presente a Cernobbio anche il commissario europeo Gentiloni, che ha condiviso le parole di Meloni, giudicando la posizione italiana in linea con quella europea. L'alto commissario per la politica estera Borrella però ha ribadito la richiesta di consentire a Kiev di utilizzare senza limitazioni le armi occidentali.